Buonasera a tutti e a tutti benvenute e benvenuti al seminario nazionale di sinistra anticapitalistica del 2014 questo seminario è una tradizione della nostra organizzazione sembrerebbe strano che un'organizzazione che ha solo un anno di vita abbia una tradizione però in realtà come credo gran parte forse tutti quanti voi sapete in realtà sinistra anticapitalistica è l'approdo di una lunga storia che ha conosciuto tante altre tappe durante le quali però tutti gli anni o quasi tutti gli anni qualche volta per cause di forza maggiore magari abbiamo passato il giro abbiamo organizzato seminari di questo genere gli unici anni sostanzialmente in cui non li abbiamo fatti sono stati anni in cui il nostro weekend politico di settembre l'abbiamo dedicato a scadenze perfino più importanti del seminario cioè a scadenze congressuali vere e proprie però in ogni caso anche questo seminario che ovviamente non è un congresso sarà un'occasione di discussione approfondita di dibattito ovviamente speriamo anche di formazione di un pensiero comune su una fase così complicata su in ogni caso diciamo un confronto a tutto campo sulla situazione che stiamo attraversando e sulle proposte che in qualche modo vogliamo mettere in campo per dare un contributo non pretendiamo da soli di poter risolvere una situazione così grave ma per dare un contributo per tentare di invertire la tendenza che conosciamo e che sentiamo pure sulla sulla nostra sulla nostra pelle questo seminario si svolge ovviamente a un anno di distanza dal seminario del 2013 che però è stato appunto un seminario molto particolare perché è stata l'assemblea fondativa di sinistra anticapitalistica ci trovavamo in tutt'altra collocazione eravamo a Chianciano molti di voi immagino fossero anche la molti anche di quelli che non sono ancora arrivati ma che arriveranno nelle prossime nei prossimi minuti o nelle prossime ore è stata è stato quel seminario quello di fondativo di sinistra anticapitalistica diciamo la sanzione di un risultato di un risultato raggiunto cioè quello di aver impedito la scomparsa di una forza politica con il tipo di orientamento e di pensiero e anche di azione e di radicamento direi che la nostra organizzazione ha la scomparsa dal panorama italiano perché scomparsa credo che anche qui racconto solo storia vissuta da tutti quanti noi due anni fa invece esattamente due anni fa si svolse a quella in quel caso a Todi in Umbria un seminario un congresso a Trevi non a Todi scusate a Trevi in Umbria si svolse un congresso che fu il congresso che in qualche modo seppure non formalmente in quella sede la cosa avvenne nel giugno luglio del 2013 però diciamo già dal settembre del 2012 quando appunto a Trevi ci riunimmo in congresso sanzionò la conclusione della storia di sinistra critica cioè di quella corrente che nel partito della rifondazione comunista non aveva accettato diciamo la sostanza e le conseguenze della partecipazione al governo Prodi e che con il rifiuto di Franco Turigliatto di votare a favore delle missioni militari e con la conseguente sua espulsione arrivò alla rottura con il partito della rifondazione comunista e alla formazione di una organizzazione indipendente che assunse appunto il nome di sinistra critica che era anche il nome che avevamo come corrente all'interno di quel partito. Quel congresso come ricordiamo tutti quanti fu un congresso estremamente teso non solo teso perché era in gioco la sopravvivenza appunto del nostro orientamento politico per lo meno in modo organizzato nel nostro paese ma perché fu teso anche nei numeri nel senso che si concluse con un pareggio all'ultimo voto e tanto che diciamo nessuna delle due componenti volle poter mantenere la definizione precedente, il nome, la denominazione precedente e noi che comunque volevamo avere un'organizzazione politica che tra le tante cose che deve avere ovviamente oltre che è un programma una direzione, una struttura organizzativa deve anche avere una denominazione, noi successivamente scegliamo quello di sinistra anticapitalistica. Naturalmente questa definizione è una definizione parziale perché noi siamo anticapitalisti ma in realtà siamo anche come dice anche il nostro simbolo comunisti, ecologisti, femministi e femministe naturalmente e anche quindi dei rivoluzionari perché diciamo l'abuso del termine comunista da parte di tanti che in realtà hanno appoggiato addirittura che sono nostalgici del riformismo del PC non ci appartiene come comunismo. Molti di voi ricorderanno, forse tutti quanti noi ricordiamo la presenza al congresso, all'assemblea fondativa di Chianciano del compagno Roberto Rossetti che un paio di mesi dopo ci lasciò, ci lasciò per sempre dal punto di vista diciamo della vita e ci lasciò per sempre dal punto di vista del contributo assolutamente fondamentale, credo che buona parte di voi l'abbiano visto proprio concretamente quel contributo nel sostenere il lavoro organizzativo della nostra organizzazione. Un compagno che ha dato, fin da quando era liceale, io l'ho conosciuto fin dai primi giorni di adesione alla nostra corrente politica, ha dato da allora sempre il massimo di militanza, non l'ho mai visto diciamo cedere di un centimetro, un compagno che ha saputo combinare l'approfondimento teorico, era credo tra i più accaniti lettori, tra tutti noi l'approfondimento teorico, storico, culturale all'impegno militante e organizzativo quotidiano, direi non solo quotidiano ma minuto per minuto. Naturalmente questa non è una commemorazione di Roberto, in particolar modo a Roma stiamo già pensando di organizzare nella prossimità della ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa una vera e propria commemorazione, poi ve lo faremo sapere, però siccome collettivamente l'abbiamo visto diciamo per l'ultima volta a Chianciano, già segnato pesantemente dalla malattia che lo aveva colpito qui non potevo non ricordarlo introducendo. Naturalmente abbiamo raggiunto il risultato di evitare la scomparsa della nostra corrente ma questo non significa che adesso andiamo in discesa, concludendo l'assemblea fondativa dell'anno scorso, Franco ricordava che avevamo forse finito la parte di salita più dura ma poi c'era di fronte a noi una pianura estremamente impervia e diciamo poco accogliente. In realtà quella pianura si è fatta ancora meno accogliente nel corso di quest'ultimo anno, già prima non è che fosse diciamo così un Eden e in questi giorni vediamo un'ulteriore accelerazione della devastazione sociale, economica della classe lavoratrice, delle classi popolari e direi anche una devastazione culturale del tessuto culturale della classe a cui noi ci riferiamo. Naturalmente questi saranno questi nodi, cioè quindi le questioni che riguardano il mondo del lavoro, le questioni che riguardano l'ecologia, le questioni che riguardano l'intreccio tra politica e sociale, politico, sociale, ecologico, saranno i temi che approfondiremo durante queste due giornate di seminario. Naturalmente di fronte a noi in questa pianura ci sono molti obiettivi da raggiungere e in qualche modo acceneremo credo nelle fasi conclusive di questo seminario anche a questi obiettivi, obiettivi di costruzione, obiettivi di rafforzamento, obiettivi di consolidamento politico, di radicamento e di diffusione territoriale. Dicevo la pianura si fa sempre meno accogliente, sempre meno, ma noi non ci vogliamo tirare indietro. La feroce offensiva delle classi dominanti sia nazionali che europee si sta dispiegando in questi giorni con maggiore durezza. La vicenda del Job Act naturalmente sta ad esemplificarlo, ma naturalmente non è solo il Job Act. Noi sappiamo che negli obiettivi del governo, anzi nelle misure concretamente proposte dal governo con vari sistemi legislativi diversi che ad ogni capitolo poi si articoleranno in modo specifico, riguardano oltre che i diritti, le conquiste del mondo del lavoro, riguardano la sanità, la scuola, l'istruzione, i diritti più in generale democratici, l'assetto istituzionale, gli spazi politici per le opposizioni, eccetera. Il tutto accompagnato da un nuovo inasprimento di un clima repressivo nel nostro paese, esemplificato dall'arresto del compagno Nunzio Derme che credo non solo i compagni di Roma conoscono personalmente, ma che parecchi altri compagni hanno avuto modo di conoscere in varie occasioni. Un compagno assieme ad un altro, a Marco Bucci, che sono stati arrestati esclusivamente perché hanno tentato di difendere un legale dibattito sull'omofobia da un'aggressione di omofobi nazi cattolici che volevano non solo disturbare ma aggredire fisicamente e violentemente quel dibattito. Ebbene invece di andare in galera, gli aggressori sono andati in galera due di coloro che si sono impegnati per difendere quel dibattito e quella scadenza di discussione. Naturalmente non ricordiamo solo l'arresto di Nunzio ma anche la repressione che colpisce uno dei più importanti movimenti del nostro paese, cioè il movimento contro il treno ad alta velocità nella Val Susa, i manifestanti di varie manifestazioni che si sono svolte nel nostro paese nei mesi e negli anni scorsi che vengono oggi colpiti a distanza magari di mesi o anche di anni perché ritenuti colpevoli di aver lanciato un sasso piuttosto che di aver fatto resistenza all'arresto. Naturalmente tutto questo è inserito in un quadro internazionale estremamente inquietante e cioè la situazione di vera e propria guerra guerreggiata che esiste in tante parti del mondo. Non è qui merito della mia brevissima introduzione che sta avvolgendo al termine approfondire o toccare questo tipo di questione ma è lo sfondo molto collegato alla situazione della crisi economica e dell'attacco padronale che si colloca dietro le aggressioni sociali che prima in qualche modo ricordavo e sintetizzavo. Naturalmente sullo sfondo internazionale oltre che i venti, non i venti ma i colpi della guerra c'è anche l'azione dei grandi potentati internazionali in particolar modo per quello che ci riguarda direttamente dell'Unione Europea che è nei fatti uno degli elementi di regia dell'offensiva padronale. Lo è da parecchio tempo e lo è in modo sempre più sistematico. In realtà sempre più affinando la sua politica perché oggi Draghi un po' più di trisce riesce a apparire perfino uno che vuole non solo l'austerità ma il rilancio economico ma nello stesso tempo vuole la distruzione di tutti i diritti. E in qualche modo questo tipo di gioco delle tre carte purtroppo per l'assenza di risposte da parte della sinistra, in particolar modo qui da noi, non viene smascherato e anzi gli si consente di continuare su questa solfa. Come dicevo questa politica non colpisce solo la classe operaia italiana e le classi popolari del nostro paese ma colpisce buona parte d'Europa direi tutta l'Europa in sostanza però ovviamente in particolare alcuni paesi del cosiddetti del sud Europa che per motivi di gestione di bilancio vengono additati come i responsabili della crisi quando invece è ben noto che i responsabili della crisi stanno in tutt'altra parte i responsabili della crisi sono le grandi speculazioni i grandi potentati finanziari e le grandi multinazionali economiche cioè in buone in sostanza con una sola parola il capitalismo infatti abbiamo come seguiamo anche sui giornali la Grecia, il Portogallo, la Spagna, la stessa Francia sono oggetto di pesanti ristrutturazioni sociali di pesanti offensive economiche antipopolari noi abbiamo cercato in questi mesi di costruire una risposta naturalmente ben consapevoli che noi non possiamo che dare un piccolo però riteniamo importante contributo a questa battaglia però perché la battaglia non sia come dire testimoniale per sollevarci la coscienza e per dire vabbè noi abbiamo fatto quello che potevamo noi abbiamo puntato a un elemento fondamentale e cioè quello della convergenza, dell'unità d'azione dei movimenti sociali, dei movimenti sindacali delle organizzazioni politiche di opposizione di sinistra questo nostro progetto si è concretizzato nella nostra partecipazione a Rossa si è concretizzato nel nostro appoggio seppure critico alla lista Tsipras si è concretizzato e si concretizzerà in una battaglia che nonostante le contraddizioni della lista Tsipras e nonostante la strada sbagliata che ha preso e sta prendendo Rossa proprio in queste settimane nonostante questo noi non vogliamo abbandonare questa prospettiva di unità e di convergenza, di unità d'azione e di convergenza e continueremo a dar battaglia in questo senso lo abbiamo fatto nel nostro lavoro sindacale l'abbiamo fatto attraverso la corrente sindacale della CGL nella quale si collocano buona parte dei nostri compagni sindacalisti che ha cercato e cerca di costruire un fronte comune delle aree sindacali combattive contro la politica governativa e padronale con risultati alterni, con risultati a volte incoraggianti a volte con risultati purtroppo scoraggianti per il settarismo e la volontà pervicace di parecchi altri soggetti di volersi contare piuttosto che di voler sommare le forze naturalmente il sommare le forze non vuol dire la diluizione tantomeno lo scioglimento significa mettere insieme le opposizioni sulle cose su cui siamo d'accordo per contrastare le cose che non condividiamo affatto che vogliamo combattere e poi continuare fraternamente il dibattito sulle divergenze che restano e che si verificano questo è un po' il senso della nostra azione ovviamente in pochi minuti della nostra azione quindi il senso dei contenuti di questo seminario